Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, sono le 20 e 27 di domenica 23 agosto 2020, insomma il momento della finale di Champions, siamo prontissimi per partire come sempre. Io sto per partire in live su YouTube, ovviamente questo video lo vedrete il giorno dopo come sempre, fatemi sapere però nei commenti se avete seguito la live ieri oppure no. Oltretutto vi chiedo sempre nei commenti di commentare, perché nei commenti uno commenta, non può lasciarmi via, cioè così funziona, con i migliori in campo. Due per squadra, non so perché ho fatto così, ma c'è sobrietà e voglia di raccontare la finale. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram se volete capire come faccio la carbonara, perché la realtà è che io e i due ospiti che sono qui a casa mia stasera, ospiti, c'è proprio entusiasmo sobrio, ci siamo fatti una carbonara bellissima e buonissima che avete visto nelle storie, quindi sono contenuti importanti. Cioè non tutti mettono storie con la carbonara, questo mi sembra un ottimo motivo per seguirmi su Instagram. Scherzi a parte, stiamo partendo, perché è tardi, sono le 20.28, tra due minuti live su YouTube. Quindi un bacione, mettetevi comodi, buon divertimento. Il Paris Saint-Germain è alla prima finale nella sua storia, il Bayern invece ci torna dopo sette anni. Nel 2013 vinse la competizione, l'obiettivo che è anche stasera, ma attenzione ai francesi, rivelazione, non si sono mai arresi in questa Champions. Nemmeno in quel maledetto quarto di finale contro l'Atalanta sembrava finita e poi hanno rimontato, qualificandosi prima per la semifinale, poi per la finale. Quarti di finale che hanno dato molta ragione anche al Bayern Monaco. Otto gol al Barcellona, una squadra insomma di marziani. Ed è per questo che pensiamo che la finale di stasera sia la finale perfetta. Per meriti, per clima, per stile e per differenza di vedute, di modo di fare calcio. Andiamo a leggerle le informazioni di questa sera. Partendo dalla Paris Saint-Germain, in campo con Keylor Navas tra i pali, il portierone in maglia 1 ex Real Madrid. Poi difesa 4 da destra a sinistra c'è Kerer che è adattato con Tiago Silva alla sua ultima partita con il club parigino. Vicino a lui Kimpembe e sulla sinistra Bernat. Quindi Kimpembe in difesa e non Marquinhos perché il 5 guiderà il centrocampo in assenza di Marco Berratti che non è riuscito a recuperare in vista della finale. Accanto al numero 5 ex conoscenza del campionato italiano lanciato dalla Roma nel 2012-2013, proprio la stagione dell'ultima finale della Bayern Monaco in Champions, finale vinta nel derby tedesco contro il Borussia Dortmund. Dicevo, accanto a lui Paredes e Amber Herrera con il tridente pesantissimo. Da destra a sinistra Angel Di Maria, Neymar e Kylian Mbappé, un altro che si era fatto male a stagione in corso nella finale di Coppa di Francia, poi recuperato per la sfida contro l'Atalanta entrando a gara in corso e ribaltando sostanzialmente anche se in modo indiretto la partita. Risponde il Bayern con Neuer tra i pali, poi difesa a 4 per la destra a sinistra composta da Kimmich, Boateng, Alaba e il fenomeno. Alfonso Davies, talento incredibile scoperto in questa stagione, ha costretto pensate Alaba a fare il centrale ma anche lì il 27 è stato bravissimo ad adattarsi perché poi è alto 1,80m, siamo abituati a centrali nelle 2020 alti minimo 1,90m, significa che la qualità c'è e c'è anche quella di Jero Boateng come compagno di reparto. Poi il centrale è composto da Goretzka e Thiago Alcantara, il tridente alle spalle di Robert Lewandowski da destra a sinistra, composto da Sergei Gnabry, doppietta contro il Lione, il primo, un gol pazzesco con il mancino da fuori. Müller che ha esperienza e che c'era in quella finale del 2013, così come Neuer, i due veterani delle club a sinistra, Kingsley Coman che ha vinto il valutaggio con Perisic e poi come detto Lewandowski davanti. Comincia adesso la finale, Fischia Orsato, parte Paris Saint Germain, Bayern Monaco, parte la finale di Lisbona Champions League 2019-2020 con un tema, il campo non in ottime condizioni, se ne è parlato nelle prepartite in particolar modo, le due aree di rigore sono composte più da terra che da Prato, quindi bisognerà anche capire come i giocatori saranno influenzati e se saranno influenzati da questo. Godetevi partire live, vi ricordo un po' di cose importanti, no? Dopo perché la pari torna ancora in verticale, sempre con Bappé, stavolta dentro per Neymar col sinistro, Neuer non è finita e poi sì, è finita perché Neuer contro le leggi della fisica è riuscito a mettere in calcio d'angolo sul secondo tentativo di Neymar. Alfonso Davies intanto, parte naturalmente da sinistra, cerca una buon cross per Lewandowski che la lascia sfilare, poi si gira con il destro e prende il palo! Palo di Lewandowski al ventiduesimo, risponde a Neymar il capocannoniere della Bayern Monaco, di Lewandowski che poteva fare 16 in questa edizione della Champions League, l'ha segnato in tutte le partite della Champions League. Quindi non farebbe nemmeno notizia una marcatura stasera, ma farebbe tutta la differenza del mondo come questo tacco di Mbappé, volante per Neymar, il 7 va dentro, il 10 la porta, l'apre in area per Di Maria, defilato deve ricominciare da Herrera, ancora dentro per Di Maria, destro! Alto! Con Neuer che era lì, ma col pari che spaventa! Che partita adesso, c'è un tiro al minuto! Di Maria, sulla destra, punta Davies, che è bravo qui ad aspettare e chiudere legalmente secondo orsato. E qui di possesso Bayern, che però consegna il palo a Neymar, occhio Mbappé, non Neymar, lascia rimorchio Herrera, ancora Mbappé, destro! È un passaggio a Neuer, è un passaggio a Neuer! Clamorosa chance per Rambappé, al minuto 45, e quindi nuovo possesso Bayern, è il momento top della partita! Goretzka, apre per Coman, uno contro uno con Kerrer, lo salterà, così è, Coman all'interno dell'area, giù! Coman giù, orsato dice no! Detto questo, Fede, cosa ne pensi delle voci che accostano Messi alla Comacchiese? Vabbè, 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 che te dovi! Voci di corridoio o qualcosa di concreto? Beh, se mi avessi detto qualsiasi altra squadra, corridoio, ma la Comacchiese, concreto, concreto! Ora Kimmich, che fa viaggiare a destra a Gnabry, bello il palone a rimorchio, Müller di sponda per Kimmich! Testa alta, la scava, per Coman! Che la schiaccia e mette in porta il gol dell'1-0! L'uomo meno atteso, l'ex Kingsley Coman, nella notte in cui tutti sognavano Lewandowski! Manda in paradiso il Bayern Monaco, 1-0 al sessantesimo! Si sblocca così la finale di Lisbona! L'apertura in zona Joshua Kimmich, rientra il 32, scava un altro pallone, stavolta per Lewandowski, che lotta con Kimpembe e trova Müller! E' suo il cross, sempre per Coman! Salva Tiago Silva! Anche stavolta, Kerer non ha visto arrivare Coman, e anche stavolta il 29 ha rischiato di far festa! Il fallo subito da Verratti, che batte rapidamente in verticale, la palla filtra per Di Maria all'interno dell'area, vediamo se crea! Alaba su di lui, torna anche Davis, Di Maria, geniale, per Marchignos! Neuer, sempre Marchignos a poter risolvere le partite, sempre Neuer, a distruggere i sogni avversari! Tra le linee per Coutinho, sta partendo verticalmente Lewandowski, viene servito per terra Lewandowski! Palla dice Orsato, non è rigore nemmeno questo! Tre rigori potenziali in questa partita, zero fischiati contro Pia de Paris, con Bappé, che va a puntare sulle, doppio passo del sette, che poi cerca l'imbucata, geniale per Neymar, che arriva sul pallone, destro di Neymar deviato! E Chupo Moting non trova la porta, incredibile! Palla gola al 92esimo per il Paris Saint-Germain! Dalla panchina del Bayern, dicono, è finita! Ha Orsato, che però non fischia ancora, siamo adesso al 95esimo! Orsato non guarda nemmeno il cronometro però, con le mani è pronto Kimmich! Kimmich, attenzione perché c'è rimessa Paris, finisce così! Il Bayern Monaco è campione d'Europa per la Champions League 2019-2020, dopo sette anni i ragazzi di Germania, i ragazzi di Flick, i bavaresi, tornano sul tetto d'Europa sette anni fa, nel 2013, contro il Borussia Dortmund, finì 2-1 con il gol decisivo di Arjen Robben, dopo l'iniziale vantaggio di Mandzukic e il pareggio di Gundogan sul rigore. Oggi basta e avanza, un gol di Kingsley Coman, dopo un quarto d'ora della ripresa, tanto Paris nel primo tempo, dal punto di vista delle occasioni, zero per gran parte del secondo. È quello l'errore importante, l'errore clamoroso, non scendere in campo e staccare la spina troppo presto, perché poi a far l'assedio nel finale siamo tutti bravi, ma non sempre finisce come contro l'Atalanta. Ragazzuoli, è andata così, onestamente una finale che ho analizzato anche prima, quindi non mi ripeterò, mi limito a chiedervi che partita avete visto, nel senso se il Bayern effettivamente, secondo voi, meritava la vittoria oppure no, io sono stanchissimo, perché è stata, l'ho accusata poi due finali in tre giorni, Siviglia-Inter due giorni fa, vi invito a gustarvi il video, ve lo lascio qui sotto nelle schede, e appunto questo qui. Vi ricordo al volo, prima di salutarvi, di seguirmi su Instagram, di iscrivervi al canale se siete nuovi, di godervi anche gli altri video di questo format e gli altri video in generale, la Superlega per esempio che è uscita ieri, e gli altri video che usciranno in settimana. Un bacione, never give up, è bella raga!